Ciao amici di Music Off, oggi nello studio nostro di Roma abbiamo un ospite veramente pazzesco e per intervistarlo, per poter far raccontare al meglio la sua storia e soprattutto i più recenti progetti che sono in viaggio, ho chiesto un aiuto a un nostro carissimo collega e caro amico che è Alfredo Romeo che da tantissimi anni segue tutta la parte di batteria di Music Off anche perché per intervistare un batterista, soprattutto uno come l'ospite di oggi che è Roberto Gatto c'è bisogno non solo di competenze batteristiche che io non ho ma anche di conoscere bene quel mondo, quello stile per potervi accompagnare meglio e far sì che anche l'ospite sia a suo agio, ecco facciamo il meglio per fare i guest a tutti gli effetti però ecco senza perderci toppo in chiacchiere vado a presentare i nostri due ospiti Alfredo Romeo e of course Roberto Gatto ciao ragazzi, benvenuti, ciao Roberto è un onore, un onore grandissimo averti qui ciao Thomas, benvenuti a tutti gli amici del Music Off che ci guarderanno ciao a tutti bene, che dici Alfredo, come l'hai pensato, nel senso lo facciamo suonare prima poi lo andiamo a torturare di domande? beh se Roberto ha voglia di farci ascoltare il suono di questa meravigliosa batteria che ha portato sì infatti anche perché per me suonare come si dice a secco è una delle cose più difficili adesso suoni, fai un bel assolo di batteria, in realtà è una cosa molto difficile ma però ecco come hai giustamente detto vi faccio sentire il suono esattamente siccome poi parleremo anche di questo appunto il suono è molto importante spero che comunque sia rappresentato al meglio ma mi sembra di sì da quello che abbiamo sentito nelle prove quindi il suono di questo strumento è veramente unico e ve lo faccio sentire bene, grande bene, grande bene, grande grandissimo, era molto rappresentativo diciamo con i mallet la batteria ha un suono e canta in un certo modo con le bacchette ovviamente canta in un altro modo ma i mallet veramente sono la cosa che tira fuori proprio l'essenza dello strumento sì e in certi momenti sono anche la cosa che più favoriscono forse la concentrazione appunto dovendo partire così a freddo forse sono stati la scelta la scelta più più adatta chiaramente i nostri amici all'ascolto avranno capito che sei un esponente di punta del heavy metal più estremo esatto dal tipo di strumento e dal tipo di scelte sonore che hai fatto però attenzione perché poi c'è un lato di me che veramente pochi conoscono a che invece in realtà ha molto a che fare con quella cosa che dici assolutamente ma è un modo per scherzare rompere un po' il ghiaccio Roberto Gatto per chi non lo conoscesse può avvantare una carriera pluridecennale al massimo livello soprattutto per quanto riguarda la musica jazz è uno degli esponenti di punta di questa musica pur avendo esperienza anche in altri generi musicali e diciamo che oltre alla normale attività di concerti di registrazione di dischi di recente ha realizzato un libro didattico che è un po' una insomma come dire una punta di diamante nella sua attività artistica perché appunto non è solito non ha mai scritto nulla del genere c'è voluto tanto tempo e anche tanta dedizione perché se arrivasse a questo risultato in cui un po' e in qualche modo si sintetizza quello che ha appreso su questo genere musicale ma anche tutto quello che sta sullo strumento batteria sul suono e tant'altro ancora quindi lo useremo un po' come pivot dell'intervista di oggi nel senso lo mettiamo al centro questo nuovo libro e poi così gli possiamo fare un po' di domande anche magari della sua di formazione anche perché appunto è un po' una summa di tutto quello che Roberto ha delle informazioni che ha acquisito sullo strumento sul tipo di musica che suona e che appunto può insegnare come sta facendo in istituti d'arte conservatori e altre istituzioni simili Roberto, questo Jazz Drum Book eccolo ma in realtà questo Jazz Drum Book è appunto una raccolta di pensieri una raccolta anche di racconti, di aneddoti di cose che hanno appunto fatto parte della mia carriera che hanno molto a che fare con la batteria ovviamente molto a che fare con il mondo della batteria ma non solo da un punto di vista didattico ma anche da un punto di vista appunto della storia vissuta su questo strumento il fatto che io abbia messo così tanti anni è semplicemente dovuto alla mia tra virgolette pigrizia nel mettere mano appunto a un progetto del genere perché comunque è molto impegnativo ho avuto io molti anni fa un'esperienza diciamo in campo didattico su video che erano delle videocassette e già quello mi aveva fatto capire insomma che probabilmente non avrei mai più fatte altre perché comunque un lavoro molto impegnativo che bisogna fare in un momento in cui uno ovviamente ha tempo a disposizione noi abbiamo avuto sfortunatamente e fortunatamente il periodo del lockdown e quindi grazie appunto a Volontè che ha insistito perché io facessi questo libro da molti anni appunto che me lo chiede grazie a te che appunto mi hai guidato in questi incontri dove abbiamo sviscerato appunto un sacco di cose siamo riusciti appunto a mettere nero su bianco come si dice e fare un libro appunto di racconti e di cose la cosa divertente di questo libro è che nei commenti che lasciano appunto sui vari social gli utenti ma anche molti colleghi batteristi anche allievi comunque è il fatto che tutti quanti abbiano percepito che non si tratta solo di un libro didattico è qualcosa di abbastanza unico quando già in un'intervista precedente ho detto è un libro non libro, un metodo non metodo è quanto di più giusto perché c'è un po' di tutto ma non solo appunto un libro rivolto alla didattica anche perché io di didattica nella mia vita ne ho fatta ben poca tutto sommato ho suonato molto e quindi tutto quello che ho fatto e soprattutto sono stato sempre molto attento a quello che ho visto e quindi questo è uno dei punti importanti del libro appunto quello che io ho assimilato guardando i grandi batteristi fare e quindi facendo poi tutta una serie di considerazioni su quello che ho visto negli anni ma soprattutto avendo realizzato in tempi anche abbastanza recenti certe cose importanti che prima magari non consideravo e ogni tanto le mettevo lì e me le appuntavo sarebbe il caso di parlare di questo e parlare di quest'altro piuttosto che vedendolo anche a scuola dove insegno appunto nei vari conservatori che ho frequentato vedo che poi alla fine queste informazioni sono abbastanza poco conosciute ecco tutti questi dati che io ho scritto dai ragazzi che studiano e che decidono di studiare la batteria e di studiare la batteria con un indirizzo gezzistico erano appunto non a conoscenza di alcuni punti importanti quindi ho fatto un mente locale su cosa potevo raccogliere a livello proprio di capitoli e come poi organizzarli cercando di spiegare al meglio anche con un supporto video in certi casi che appunto fa parte anche di questo libro sì qualcosa che credo di poter aggiungere in quanto curatore del libro stesso è che gli argomenti proposti sono tutti motivati da una spiegazione che viene appunto riportata nel libro stesso quindi non si tratta soltanto di fate così per ottenere questo risultato ma perché fare così perché c'è dietro qualche cosa c'è un'osservazione appunto non è soltanto l'esperienza diretta di Roberto ma è la tua osservazione di questo quel grande batterista un meno grande in alcuni casi ma che fa che è specialista di quel particolare argomento quindi c'è come se fosse stata trasferita su carta una trasmissione orale di questa arte di suonare la batteria in un certo contesto che era l'unico modo di trasmissione fino a qualche tempo fa prima che non soltanto ci fossero i social ma anche in qualche modo si affermasse tutto il discorso sulla metodologia la scrittura di metodi eccetera in qualche modo è come se fosse stata raccolta tutta questa esperienza nella raccolta delle informazioni e poi finalmente trasmessa con questo libro se così vogliamo dire un libro che è uscito per i tipi appunto di volontà e che è già disponibile da tempo in tutti i principali librerie musicali, negozi di musica e quant'altro una cosa che mi piace ricordare di questo libro è il fatto che ogni argomento trattato ha questa spiegazione a monte e poi ha dei riferimenti diretti anche non a una discografia generica in cui si fa un elenco di 20-30 dischi da ascoltare che nessuno poi si va ad ascoltare per intero ma a seconda dell'argomento trattato ha una puntuale registrazione fatta da quell'artista su quel disco eccetera eccetera per dimostrare come quanto sostenuto sia ascoltabile la prova del nome, la fonte principale e che trovo che questo sia molto molto utile soprattutto perché appunto magari rinviare a un disco intero nell'EP intero possa essere un po' fuorviante ma invece indirizzare su quell'argomento specifico non so, la pronuncia del piatto a quel tipo di pezzo in cui si può ascoltare quanto detto possa essere molto molto utile visto che si rimanda a strumenti che oggi ci mettono a disposizione qualsiasi cosa su YouTube troviamo di tutto e quant'altro in realtà se posso intervenire è certo sì, no, dice devi intervenire devi intervenire cioè tutto questo, diciamo il lavoro fatto su questo libro è una cosa che ha a che vedere con un lavoro di ricerca cioè proprio io lo chiuderei in questo modo diciamo cioè l'idea è sulla ricerca che io ho fatto e perché l'ho fatto come dire questo libro esce quando io ormai ho 63 anni e barra sto andando per i 64 quindi sono passati tanti anni quindi in tutti questi anni ho guardato ma continuo anche a fare ancora oggi a farlo e forse lo faccio con un occhio diverso rispetto a come lo facevo prima però diciamo ci ho messo veramente molti anni per realizzare, capire e assimilare determinate cose alcune delle quali le sto ancora assimilando però è un lavoro fatto appunto sulla ricerca la ricerca vuol dire all'ascolto vuol dire che grazie anche appunto ai mezzi che abbiamo ora come hai detto tu e quindi i video che sono in circolazione tante cose di cui prima non eravamo a conoscenza adesso ci danno la possibilità di fare delle verifiche e fare dei riscontri e quindi i dischi da una parte i video da un'altra dei documenti fantastici come registrazioni di masterclass di alcuni di questi grandi maestri che io cito nel libro comunque tante cose che messe tutte insieme mi hanno spinto appunto a classificarle in maniera di poterle riconoscere tutte quante divise per argomenti però tutto questo appunto ci tengo a dire che è un discorso di ricerca e per avere come dire per fare un lavoro di ricerca fatto in un certo modo ci vuole molto tempo e ci vuole quindi non solo passare del tempo bisogna passare molto tempo quindi siccome la vita di un musicista è quella di andare a suonare però quando poi uno torna a casa o scrive musica o si dedica appunto alla composizione ma soprattutto si dedica anche ad ascoltare i dischi cosa che io continuo a fare e a trarre grandissima ispirazione dall'ascolto di questi dischi in particolare proprio dei vinili perché i vinili suonano in maniera diversa dai cd c'è poco da fare quindi sono un grande collezionista a parte di batterie ma anche di vinili originali dell'epoca che mi restituiscono veramente il suono vero che usciva da quei dischi e quindi sono molto attento e molto avido proprio di questo genere di informazioni che continuo a raccogliere e che cerco poi di comunicare di trasmettere ai ragazzi nelle scuole e questa forse è la cosa più difficile perché trasmettere la tecnica forse si riesce ancora a fare ma riesci a trasmettere questa curiosità questa voglia di indagare ti pare di riscontrarla nelle generazioni più giovani tra i tuoi allievi in certi casi devo dire di sì perché poi tutto questo ha anche a che fare con la passione per lo strumento non ho mai visto un musicista essere arrivato a un certo livello se non aiutato e supportato anche da una grande passione lo vedo anche quando lavoro con certi musicisti americani quando si parla di musica e si parla anche del proprio strumento infatti c'è una frase all'inizio del libro che ho voluto mettere anche se viene da di Bonham sì esattamente la frase di Bonham è proprio racchiude tutto quello che io penso esattamente cioè le persone che non amano il loro strumento mi annoiano cioè profondamente cioè per non arrivare a parlare di che ne so di qualcosa che può essere considerata anche una mania cioè un po' di questo monomaniaco parla sempre solo di quello però parlare indagare sul proprio strumento fare degli esperimenti provare piatti nuovi pelli nuove soluzioni diverse misure diverse tutte queste cose qua hanno a che fare proprio con un amore per lo strumento e l'amore per lo strumento poi ti porta a uscire anche fuori dallo strumento e andare a raccogliere tutta una serie di informazioni importantissime che abbiano sempre a che fare con quello per cui ti chiedi perché Philly Joe Jones ha quel suono perché quel piatto suona diverso da quell'altro perché quell'accordatura piuttosto che quell'altra c'è tutto un mondo che c'è intorno alla batteria che ovviamente tira fuori una grande passione all'interno di di chi poi viene catturato da questo e questo è molto importante non credo che si possa rimanere diciamo indifferenti rispetto appunto al proprio strumento dicendo sì vabbè uso quella batteria piuttosto che quella quei piatti piuttosto che quelli io sono in continua ricerca cioè addirittura entro in dei dettagli parlando di piatti cioè io martello i piatti a casa per dire sono attrezzato so come intervenire su certe cose so vado un po' anche oltre diciamo il lavoro semplicemente di provare mi metto lì a sperimentare e faccio cose cose strane anche lavorando sulle batterie facendo modifiche facendo cambiando rivestimenti aggiungendo hardware di un certo tipo insomma è tutta una cosa che mi mi porta ad avere questa passione d'altra parte la cura del suono è così importante che costituisce il primo capitolo di questo libro nel senso fai un po' discendere tutte le informazioni che dai proprio da questa attenzione al suono perché diciamo per delimitare un po' il campo si parla di un libro che ha per oggetto il batterismo jazz per così dire circoscritto in un arco temporale che va grossomodo dalla metà degli anni 40 un po' prima dall'inizio degli anni 40 fino agli anni 70 più o meno diciamo quel concetto di jazz che è il più facilmente riscontrabile in qualsiasi jazz club in qualsiasi angolo del pianeta cioè se vi capita di andare di partecipare ad una gen session sono informazioni che possono tornare vi utili per suonare un linguaggio condiviso da gran parte quindi non si tratta restano fuori soltanto ma si fanno vari accenni il jazz delle origini è quello più contemporaneo ma per il resto diciamo è questo grosso filone per conoscere il quale è fondamentale conoscerne il suono in realtà che invece troppo spesso è l'ultimo scurato sì diciamo che il libro ha tre sottotitoli cioè come dire si chiama jazz drum book poi si chiama comping suono comping e phrasing sono tre cose molto importanti tutte e tre ce ne sono ovviamente tante altre però queste tre sono fondamentali partendo dal suono proprio perché quello che 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 è molto importante da capire è che quando noi studiamo un batterista o trascriviamo o prendiamo un determinato l'X da un disco che ci piace ce ne sono tanti parlando di questi grandi batteristi ognuno di loro ha lasciato un patrimonio proprio di stili quindi noi andiamo ad attingere da questi stili quindi se noi prendiamo una frase di Max Roach piuttosto che di Philly George Jones e non la riusciamo a rappresentare in termini di suono cioè abbiamo abbiamo fallito già cioè la cosa più importante prima di tutto è entrare in quel suono questo vale per tutti gli strumenti cioè se noi volessimo studiare Jimi Hendrix se cambiamo cambiamo strumento musicale sulla chitarra però tiriamo giù anche se ci riusciamo chi più chi meno insomma quelle frasi ma non abbiamo quel suono là voglio dire abbiamo fallito l'esperimento nel senso che io sono più per quella roba cioè per cercare di entrare molto nel suono quando abbiamo messo a posto il suono in termini di accordatura ma soprattutto anche di il suono viene da dallo strumento da come parla lo strumento da come canta ma anche dalle nostre mani dal nostro approccio sui tamburi quindi questo è molto importante non si può considerare che la batteria si suoni in un modo solo cioè se andiamo a vedere tutti questi batteristi grandi della storia suonano con i polsi suonano con l'avambraccio suonano con il braccio ognuna di queste zone qui dà un suono allo strumento e quindi nel libro poi si parla appunto di varie cose tra cui anche lo snap che è una delle cose importanti però io posso colpire un tamburo in tanti modi e apparentemente sembrano tutti uguali ma a dare vari colori colori e generi e generi di suono quando io ho messo a posto quello il suono poi anche di un esercizio deriva dal fatto di una serie di sfumature all'interno cioè una sequenza di colpi possono necessitare e anzi necessitano proprio di alcune nuance come dire cioè quello che poi in gergo batteristico si chiamano ghost note a volte ma semplicemente anche gestire bene gli accenti forti da quegli altri da quelli più deboli oppure appunto lavorare sulle ghost note ma semplicemente sulle dinamiche che cambiano in continuazione per cui una sequenza di sedicesimi o di ottavi o di quello che è in una frase può avere può avere all'interno una curva dinamica molto molto estesa non è solo così così ma è così perché va giù che poi qui tutto questo condensato in una breve frase di quattro battute per dire c'è tutto un mondo e quello fa anche il suono quindi il suono deriva da tante cose non so se chiederti un esempio pratico di quello che stai dicendo se ti va di farlo ovviamente lo faccio più che volentieri c'è un un lix di Philly Joe proprio che ho inserito nel libro ma insieme ad altri che si basa su su questa su questa figurazione appunto una sequenza di note che poi andiamo a vedere che cosa esattamente sono e come le possiamo classificare potrei potrei parlare di una sorta di double paradiddle però che non è comunque diciamo sono due gruppi di 369 369 e una chiusura quindi tatatata tatatata tatata tatatata tatatato ecco questo questo semplice per dire suonato tutto quanto nello stesso c'è allo stesso livello più o meno esce fuori questa cosa qua solo sul tamburo poi vi faccio vedere lo sviluppo che riesce a dare appunto filigio ad un esercizio del genere, questo è un esempio ma ce ne sono milioni comunque io faccio ok, questa è la base di questo esercizio ed è tutto suonato su uno stesso livello poi filigio per esempio lo organizza in questo modo, lo orchestra in maniera molto semplice in questo modo e anche qui è tutto allo stesso livello io sto suonando i colpi più o meno uguali ho aggiunto il tipo di orchestrazione che è usare appunto questo colpo di timpano nella realtà questo esercizio fatto in velocità come lo suona lui in un disco da cui io l'ho preso che è un disco di Bill Evans Eddie Gomez un trio bellissimo che si chiama California Here I Am o qualcosa del genere in una serie di trades che lui fa fa questa frase e lui lo suona in questo modo questa cosa di usare più dinamiche gli conferisce appunto la cosa che si avvicina di più a quello che fa lui ma questa cosa non è automatica se uno non trova il suono e non trova soprattutto quello che si chiama lo sticking giusto e qui entriamo in un'altra cosa che è molto importante indovinare lo sticking attraverso sempre l'ascolto fino a che non ci avviciniamo il più possibile a quel suono là vuol dire che magari lo sticking è sbagliato io posso fare questo stesso esercizio cambiando lo sticking ma non suona uguale per cui lo posso fare tutto a colpi singoli nemmeno ci riesco perché mi serve per forza il doppio ma comunque ecco questo modo qui anche sforzando sulla mano sinistra questa cosa quasi di non precisione ma un po' di tirare quasi per i capelli non è c'è bisogno di questa tra virgolette sporcizia per ricreare quel tipo di quell'espressione che appunto è un fatto legato al suono e all'interpretazione che è molto importante faccio una cosa del genere più tipo l'X di Max Roach ecco siamo d'accordo c'è un accento ma non è ci sono dei colpi più bassi ci sono dei colpi che devono uscire fuori di più e tutto questo ha a che fare appunto anche come abbiamo studiato le mani un esercizio che si usa molto nel jazz è proprio il drag ma anche qua c'è un modo di suonarlo questo drag per arrivare a cercare di avvicinarci il più possibile a quello che è il suono di quei batteristi e là bisogna lavorare proprio su queste sfumature che sono importanti per cui il suono come prima cosa su cui lavorare e il suono come dico nel libro si assimila anche ascoltando con molta attenzione i dischi e cercare di entrare in quel tipo di se la batteria ha un tipo di accordatura se ha un pitch di un certo tipo se sentiamo che il tamburo ha una tensione allora dobbiamo riuscire più o meno ad avvicinarci lavorando sull'accordatura prima e poi però lavorando anche sull'approccio al suono anche aiutati dal fatto che ogni tanto vediamo uscire un video nuovo e capiamo perché Philly Joe Jones ha quel suono che non può essere un suono basso ma che necessita di un gesto importante come come fa lui è riprendo il microfono ottimo mi veniva in mente sempre parlando di suoni un consiglio molto molto utile che si può trovare in qualche modo mutuato anche da un altro grande che è Bill Higgins e che può tornare comodo appunto a chi si avvicina a questa professione se ha la fortuna di poterla fare e che riguarda la microfonazione veniamo troppo spesso dalla situazione in cui si pensa di dover amplificare ogni singolo tamburo dello strumento e le pelli superiori e le pelli inferiori con il massimo del dettaglio però si rischia in questo modo di perdersi il suono complessivo dello strumento e questa è una cosa appunto sulla quale insisti parecchio anche tu cioè di riprendere lo strumento come se fosse un unicum come se fosse non una somma di tamburi e piatti ma esattamente così e qui c'è da da aprire una parentesi che riguarda il rapporto anche con i fonici molto spesso ma soprattutto con i fonici in Italia devo dire che sono per carità degli ottimi professionisti ma che quando si trovano di fronte a dover amplificare uno strumento come questo vanno un po' nel panico molti di loro questo mi è capitato allora io mi permetto di suggerire a volte e trovo ogni tanto un po' di resistenza no perché secondo me bisogna fare così allora una batteria da jazz notariamente appunto è composta da questo tipo di suono che sentiamo qua c'è un'accordatura abbastanza alta e anche un suono dei tamburi molto definito quasi diciamo vicino a uno strumento a suono determinato perché quando si dice che la batteria è a suono indeterminato è vero fino a un certo punto perché comunque riusciamo anche soprattutto come ho fatto prima usando i mallet esce veramente fuori una definizione molto vicina diciamo a delle note reali quindi usando degli intervalli eccetera e noi dobbiamo avere a che fare con quattro tamburi che parlano nello stesso modo come dice Higgins in quella famosa intervista che ho citato anche nel libro non si possono avere tre suoni nei rullanti tom e timpano e la cassa poi è morta da un'altra parte che non fa parte della stessa famiglia nel modo di riprendere poi appunto la batteria in fase di registrazione è anche live è abbastanza frequente che i batteristi di jazz vogliano un suono più panoramico piuttosto che il dettaglio tom e timpano è rullante a volte a meno che non ci sia una problematica legata alle spazzole anche lui non viene amplificato quindi due overhead io ho lavorato con molti fonici all'estero compreso anche uno dei più noti che è David Hawks un fonico che lavora tuttora con Pat Metini da almeno 30 anni forse 35 anni quel signore con quel barbone che comincia ad avere una certa età io ho avuto modo di lavorare con lui insieme a Pat Metini e ho visto come microfonava la batteria quando abbiamo fatto questi concerti e lui usava appunto l'idea della microfonazione panoramica adesso non voglio dire che gli americani siano in assoluto sempre più bravi di noi però chiaramente vedendo lui come lavorava e avendo avuto quell'esperienza insomma importante con Pat Metini che è un super pignolo è uno veramente esasperato da un punto di vista della professionalità David Hawks secondo me è uno che sa lavorare molto bene e sa rappresentare bene quel suono io l'ho visto sia lavorandoci insieme sia vedendo dei concerti per esempio Bill Higgins Charlie Hedden quel trio là anni fa molti anni fa e il modo suo di rappresentare quel suono era sempre lo stesso cioè due overhead a volte nemmeno la cassa solo due overhead e forse un microfono per il rullante per le spazzole la cassa è uno dei problemi principali la cassa piccola con la doppia pelle con il suono in questo modo qua se noi l'amplifichiamo da davanti con il microfono classico da cassa quello che una volta era la KG D12 che adesso è da 52 esattamente a volte non è il microfono adatto per questo tipo di cassa è un microfono giusto per la cassa classica da 22 col buco e il microfono che prende un po' il suono da dentro la cassa in realtà questo è come un altro tamburo per cui l'ideale è un microfono dinamico classico da tom e da timpano volendo quindi mi viene in mente un Sennheiser 421 per esempio che è uno dei microfoni migliori per questo tipo anche per i tamburi in studio e quindi usare lo stesso criterio di come noi registriamo appunto gli altri tamburi da batteria non un microfono specifico per la cassa però su tutte le informazioni che pochi hanno e pochi sanno tutto sommato per cui mi sono permesso di anche in questo senso sulla base di esperienze personali e di quello che ho visto e quello che ho sentito fare e di dare delle delle indicazioni al riguardo Sarai responsabile quest'estate di risse tra fonici e batteristi al fonico non gli va mai troppo giù sapranno con chi prende non mettere il microfono dentro a quel famoso buco ma non c'è il buco davanti no non c'è il buco davanti purtroppo senti hai fatto riferimento a un artista che è conosciuto soprattutto per il suo suono per la bravura che è Pat Medini ci stanno tanti altri artisti internazionali e non che hanno dato un loro contributo a questo libro che è disseminato di quotes di citazioni che mi piace ricordare come in realtà nella maggioranza dei casi intervengono proprio a sottolineare o a ribadire alcuni concetti didattici espressi nei vari capitoli e paragrafi del libro quindi questi interventi di musicisti con i quali hai suonato poi ci sono altri colleghi batteristi con i quali è più difficile suonare ma che condividono la tua stessa passione è capitato pure di suonare con quei batteristi in particolare Joe Fansworth abbiamo fatto diverse drum battle insieme è l'unico batterista presente con delle dichiarazioni con delle dichiarazioni e dicevo con molti di questi musicisti hai avuto l'onore e il piacere di suonare e si sono tutti prestati espressamente cioè non si tratta tanto di attestati di stima nei tuoi confronti ma proprio tu hai chiesto loro dei pareri specifici su alcuni argomenti e la cosa più più normale sarebbe stata quella di scrivete qualcosa su di me oppure date no qualcuno l'ha fatto spontaneamente ma per fortuna pochissimi per fortuna perché non era quello di cui avevo bisogno non era un parere su quello che ho fatto io con loro ma per quanto vuoi possa far piacere sentirsi assolutamente sì però anche qui è una voglio dire una prova di altruismo e di dire no io voglio raccogliere alcune testimonianze importanti da musicisti con i quali ho suonato e voglio che loro dicano la loro idea di batterista jazz ma anche non solo jazz voglio dire non è che ho specificato chiaramente chiedendo a Gio Lovano chiedendo a John Scofield chiedendo a John Patitucci a Eddie Gomez cioè tantissima gente che ha avuto rapporti con batteristi privilegiati anche alcuni di loro hanno suonato con cioè batteristi stratosferici mi viene in mente appunto Lovano Elvin Jones Ed Blackwell Billy Higgins piuttosto che Joey Barron piuttosto che Max Roach insomma tanti di loro hanno avuto delle esperienze se andiamo a vedere poi i loro curriculum hanno suonato veramente con la storia e quindi volevo che loro dicessero la loro e mi sembrava interessante che nel libro ci fosse questa cosa perché non se ne parla mai cioè che cosa volete voi da un batterista qual è per voi l'idea di suonare con un batterista ideale e allora loro chi più chi meno perché alcuni si sono dilungati altri hanno fatto una brevissima sintesi però comunque in tutte queste quotes come hai detto te esce comunque un pensiero importante e quindi andare a leggere cosa dice Luther Bucking piuttosto che che appunto Joe Magnarelli piuttosto che Peter Bernstein insomma musicisti americani e anche alcuni italiani perché ci sono anche delle quotes di altri musicisti con cui ho suonato ma ho voluto chiedere agli americani non per un fatto perché loro ovviamente vivendo in quella realtà così piena di di musicisti che hanno fatto parte della storia molti di loro li hanno frequentati quindi era giusto che loro parlassero perché a loro volta avevano una lista dietro di loro di batteristi che poi sono tutti batteristi che io cito nel libro quindi questo è stato è stata la mia idea di chiedere a loro e secondo me è una delle cose più interessanti del libro anche perché riporto tutto a un livello molto più terra terra molto spesso come batteristi ci preoccupiamo troppo del giudizio dei nostri colleghi e troppo poco del giudizio di chi potrebbe ingaggiarci assolutamente potrebbe chiamarci a suonare che non sono altri batteristi a parte casi proprio eccezionali come dici di prima ma sono contrabbassisti pianisti sassofonisti eccetera c'è invece un altro batterista che citi che ti è più vicino anche dal punto di vista generazionale che è Joy Baron col quale condividi questa passione non solo questa in particolare per le spazzole che è un argomento tra i tanti di cui ti occupi nel libro ovviamente ed è forse l'argomento più customizzabile più personalizzabile in cui è meno facile dare delle certezze assolute perché a differenza di mallets e soprattutto di bacchette forse c'è più margine anche per una tecnica come dire empirica e molto più personale perché come dire portano a un contatto differente sullo strumento vogliamo toccare un po' l'argomento e magari anche far sentire qualcosa ma figuriamoci sono uno degli attrezzi del batterista fondamentali molto importanti lo vedo anche appunto a scuola molti ragazzi mi chiedono a proposito delle spazzole in realtà quello che io ho elaborato nel corso del tempo a parte rispettare determinate cose alcune figurazioni eccetera ma soprattutto mi sono creato delle cose che funzionano per suonare determinate cose come ballad come dei tempi medi come dei tempi più veloci eccetera il bossonove eccetera eccetera con Joey Baron abbiamo passato del tempo insieme sulle spazzole ma è stato un confronto cioè lui chiedeva a me fammi vedere come fai quello e io chiedevo a lui fammi vedere come fai quello purtroppo tutto questo era documentato da un video che avevo fatto con un telefono che purtroppo si è bruciato quindi ho perso completamente era molto interessante perché c'era questa cosa fatta a New York un po' di anni fa dove ci confrontavamo appunto sulle spazzole lui è un fuoriclasse assoluto veramente ha studiato molto molto la tecnica delle spazzole io diciamo che nel mio cerco di fare di usarle per quello che serve diciamo il grosso del lavoro delle spazzole è diviso in due parti cioè la parte degli strusciati per dire la parte invece degli staccati quindi percussiva più percussiva sono due cose completamente diversi forse tra le due la più difficile è proprio quella degli strusciati che deve rispettare una serie di accorgimenti importanti anche quella più specifica scusami Roberto nel senso che con le bacchette possiamo fare la parte percussiva gli staccati ma non gli strusciati cioè l'unica cosa che veramente la vera arte delle spazzole è proprio quella quindi qui andiamo a vedere i vari pareri dei vari diciamo batteristi alcuni li troviamo appunto in rete parlo di Ed Tippen piuttosto che Clayton Cameron piuttosto che Jeff Hamilton Jeff Hamilton anche Tutti It cioè dei piccolissimi tutorial presi in delle masterclass dove parla di spazzole secondo me parlando anche con loro appunto con Tutti It con cui ho stretto un'amicizia anni fa e da altri ognuno praticamente dice io faccio questo poi altre cose sì quello Joe Barron mi diceva questo ma è Lewis me l'ha insegnato lui quest'altro Alan Dawson mi ha detto quando stavo a scuola al Berkeley mi ha detto di fare questo ognuno di loro ha una cosa che qualcun altro gli ha detto ma in realtà non c'è una regola per quanto no su alcuni libri mi viene in mente il libro di Philly Joe Jones sulle spazzole Brush Artist qualcosa di Artistry per quanto mi riguarda abbastanza incomprensibile perché tutto basato su diagrammi di diagrammi disegni cose anche che poi nell'originale hanno colori diversi per indicare le due spazzole aggirano solo fotografi io sinceramente non ho l'originale di quel libro ma a parte un paio diciamo non sono mai riuscito a decifrare più di tanto quello che cioè quando si parla di parti da qua le crocette la linea segmentata poi la freccia che va di là insomma alla fine quello che a noi ci serve per lavorare quello che lavorare su quello che ci viene proposto all'interno di un concerto appunto suonare una balla suonare un tempo medio ci sono varie tecniche come spiego nel libro non le voglio ripetere qua perché si possono vedere tecniche alternative dalla più classica appunto che è questa qui attribuita a Papa Joe Jones questa a Tergicristallo oppure diverse oppure oppure questa di Tutit sono tutte rappresentate nel libro sì perché nel libro troverete anche un codice che vi consente di andare sul sito dell'editore e usufruire dei circa 25 video che sono stati girati con peraltro l'aiuto di un collega brillante come Lucrezio De Seta per quegli argomenti che oltre alla spiegazione verbale oltre alle trascrizioni di eventuali esercizi avessero bisogno anche di un impianto visivo quindi sono stati realizzati io ho ritenuto importante perché certe cose attraverso solo diciamo una parte di testo che cerca di spiegare necessitano inevitabilmente di un riscontro visivo perché sennò non ci si arriva proprio a capirlo quindi abbiamo avuto questa opportunità di poter girare questi piccoli video e di inserirli in questa piattaforma appunto alla quale si accede molti me lo chiedono ma come si fa a vedere questi video all'inizio del libro proprio alla prima pagina c'è un codice con un indirizzo eccetera eccetera il link col codice una sorta di password diciamo dove poter entrare e lì ci sono questi video che sono segnalati appunto all'interno del libro nei vari capitoli con un simbolo dove c'è scritto video ecco quando c'è il dubbio uno va lì e secondo me è una cosa molto utile molto completa soprattutto cioè una cosa che veramente c'è tutto in questo libro c'è la parte di testo c'è tutta la storia ci sono la parte didattica ci sono anche appunto i video quindi veramente un'opera completa guarda volevo fare una domanda Roberto diciamo tu sei anche tra i profani tra virgolette come me del mondo batteristico sei comunque conosciuto come un fuoriclasse del mondo del jazz ma ci hai avuto anche delle fuitine proprio dei flirt anche col mondo del pop sì senza dubbio come no nella mia nelle mie varie biografie sono tutte segnalate queste cose ma ne ho fatte parecchie a livello discografico meno a livello appunto concertistico a parte le uniche due tournée vere e proprie che io ho fatto nella mia carriera sono state la prima con Teresa Desio quando uscì quel famoso disco dove c'era il brano voglia di turnare UNIT negli anni 80 e poi invece una tournée bellissima con Pino Daniele questo nel 2000 quindi queste sono state le uniche mie tournée diciamo però invece a livello discografico ho fatto tantissimo ho lavorato con tanti artisti da Ivano Fossati Lucio Dalla Morandi Mina Gino Paoli insomma ho fatto veramente tantissime partecipazioni a dischi magari anche uno due tre brani mi chiamavano perché volevano un certo tipo di colore e sono tuttora sempre molto contento quando mi propongono cose fuori da fuori dalle mie anche perché sì io non ho fatto una scelta di fare il session il sideman in studio di lavorare molto negli studi perché ho sempre privilegiato appunto il fatto di andare a suonare jazz in giro quindi ognuno il suo la scelta è spesso è abbastanza difficile riuscire a fare tutte e due queste cose ho sempre considerato che ci vuole tempo per l'uno e per l'altro e quindi però lo faccio quando mi viene richiesto lo faccio anche con grande piacere la musica voglio dire è bella tutta e quando come diceva Ellington c'è solo musica bella e brutta quindi quando la musica è bella è emozionante per me suonare una bella canzone è successo con Max Gazet per esempio di un di un brano che abbiamo fatto al Festival di Sanremo che era un paio di anni fa sì due o tre anni fa era una canzone meravigliosa secondo me che quando me la fece ascoltare prima di decidere se appunto andare poi a fare questa cosa mi emozionò molto veramente è quello che deve fare la musica e quindi lì non ci sono barriere non ci sono questioni di stile il jazz non il jazz la musica è bella tutta io e io l'ho sempre ascoltata tutta e la continuo ad ascoltare tutta quindi mi piace il grande rock continuo ad appassionarmi a gruppi interessanti che ci sono in giro radio ed altre cose col play insomma c'è un sacco di cose cose belle a parte Peter Gabriel insomma questi grandi classici e poi io sono vengo da lì vengo da rock vengo da rock progressive vengo da non solo quello progressive ma proprio direi quello proprio più autentico che è il rock degli anni settanta le zeppelin hendrix i deep purple black sabbath tutta quella musica che in quegli anni la arrivava qui e che noi seguiamo e che ci ha regalato anche per restare nel campo batteristico dei grandissimi personaggi che in qualche modo aiuti anche non dico a riscoprire ma forse a portare all'attenzione delle generazioni più giovani mi viene in mente un levo nel del quale parli tanto verso la fine del libro che appunto magari non un batterista da far cadere la mascella a terra come dicono gli americani ma che aveva delle peculiarità tutte sue tra l'altro uno è capace anche di cantare oltre a suonare che è un esercizio di indipendenza difficilissimo un grande artista un grande visionario e un musicista strepitoso appunto non solo un batterista come poi spesso anche dicono nel libro non ci fermiamo di fronte al suonare bene lo strumento andiamo oltre cerchiamo di fare qualcos'altro anche studiare un altro strumento scrivere fare insomma porsi verso la musica in maniera un po' più generale ci sono dei batteristi insospettabili che citano il libro appunto lui Jim Keltner è un altro batterista strepitoso io non mi limiterei appunto a definire questi batteristi dei session sono dei grandi artisti sia Jim Keltner che Livonel possono essere diciamo accumunati a quello che era per esempio la figura di Paul Motion cioè dei batteristi musicisti che comunque quando poi li metti in quei contesti fanno la differenza in termini proprio di suono e di dove la musica deve andare un'intelligenza musicale veramente speciale molto poco appariscenti ma con suono ecco lì ritorniamo alla questione del suono cioè Livonelm quando suona nei dischi suoi nei dischi della band anche in quei video sentiamo che c'è una qualità c'è un suono così come Jim Keltner come Ged tornando a un batterista invece più di un periodo più recente hanno un suono veramente unico riconoscibile la prima cosa Ged non sarebbe Ged se non c'avesse quel suono lì al di là dei leaks che fa che li ha inventati lui che sono strepidosi e sui quali tutti noi abbiamo studiato e ancora continuiamo a studiare ma è il suono che fa fa quella roba lì assolutamente e invece un parallelo più scontato per chi sa di che cosa si sta parlando ma forse meno scontato per qualche ragazzo con tanti anni di meno è quello che c'è tra due personaggi che abbiamo citato più volte uno è John Bonham c'è questa bellissima frase a inizio libro e l'altro Max Roach sono dei leaks che uniscono i due personaggi che forse i soli appassionati di rock non sanno da dove da dove certamente cioè la provenienza di questi leaks perché una volta in realtà quando questi grandi batteristi rock si sono trovati a inventare un genere che prima non c'era che poi invece con loro è nato non avevano altri riferimenti degli stessi di chi ascoltava lo dico sempre non c'era una storia diciamo prima di loro a livello di rock sì magari qualcuno si poteva ispirare al batterista di Elvis Presley che poi era DJ Fontana nel modo di suonare rock and roll parlo di non so anche Ringo oppure altri batteristi che hanno frequentato quel genere di musica venendo dagli Beatles era un gruppo che suonava rock and roll facevano cover e facevano cover esattamente ed erano appassionati di quel mondo musicale lì ma a parte questo poi i riferimenti erano i grandi batteristi di jazz i grandi batteristi delle orchestre in particolare Jim Krupa Buddy Rich non solo è proprio talmente così che proprio ormai è anche inutile parlarne cioè quando per esempio vediamo su YouTube anche questo grazie appunto al web che ci offre parlare del suono di John Bonham per esempio ci sono tutorial su tutorial ma ce n'è uno in particolare che è quello di Jeff Hockeltree che è stato il suo drum tech in due tournée dove fa già parecchi anni che è su YouTube ma comunque spiega il suono di John Bonham con la sua Ludwig meravigliosa Green Sparkle 26 14 16 18 e dice il suono di John Bonham è fatto da questa batteria con queste misure con questo accoppiamento di pelli eccetera eccetera ma soprattutto dice quello che la gente non si aspetta è che il modo di accordare la batteria non è nient'altro che quello che usavano i grandi batteristi di Big Band cioè proprio quindi un'intonazione molto alta e comincia a far vedere i vari suoni dei tamburi che pur avendo misure molto grandi in realtà suonano molto tirati come tipo di tamburi uno da fuori non lo direbbe mai soprattutto a partire dalla cassa la cassa da 26 lui dice lui usava molto la pelle risonante molto tirata e quasi allo stesso livello la pelle battente questo perché gli dava una proiezione l'aria che muoveva praticamente il colpo del battente sulla cosa dava molto più più velocità appunto all'aria che si muove tra la pelle battente e la pelle risonante che generava quel tipo di suono che è un suono gigantesco bellissimo teso e tutto quanto ecco però lui ribadisce lui si ispirava all'accordatura dei batteristi delle Big Band anche come misure la cassa da 26 è quella che usava Badirich e comunque la profondità era quella standard una volta 14-14 quindi niente di niente di diverso e per il resto il suono torniamo lì è un suono è il suono di John Bonham quindi al di là di trovare le giuste accordature le misure di prendere un strumento praticamente identico poi il suono sta qua il suono sta sempre qua e il suono sta anche nelle mani ovviamente di come noi colpiamo e come entriamo dentro ai tamburi per il suono di John Bonham così come il suono di Philly Joe e di molti batteristi di jazz prevede il fatto di tenere il battente dentro la pelle quando noi suoniamo una frase è molto importante per riuscire a rappresentare al meglio quella frase vi faccio un esempio il suono stai affondando alla fine della frase assolutamente il colpo di cassa col battente faccio una frase sì esatto con i tamburi con il rullante eccetera eccetera alla fine quando decido di chiudere questa frase come spesso succede nelle frasi che si usano nel linguaggio bebop ogni volta che sentiamo questo colpo di cassa è 9,9 è un colpo fermo che chiude la frase viceversa la frase non suona nello stesso modo se io colpisco e vado via è come se non si concludesse il fraseggio in qualche modo sì ma è come chiudere con un accordo che però non risolve che rilancia la puoi anche interpretare così ma proprio non gli dà il suono non gli conferisce il suono e questa è una cosa importantissima perché è una grande incognita suonare fermo allora Bonham tornando a lui e a quel suono lì è uno che suonava col battente di legno e soprattutto ogni volta che sentiamo questi tu questi colpi non sono lui il risultato però è che lui ha quella cassa lì di quelle proporzioni e il suono era potentissimo grazie al battente di legno ma soprattutto al fatto che lui entrava dentro alla pelle cioè boom lui fermava il suono ogni boom non è boom tocchi e vai è boom e fermi quel suono quindi è molto difficile da gestire così come la cassa da 18 paradossalmente quindi la cassa più piccola adesso fanno anche le 16 ma comunque la cassa da 18 nel jazz è assolutamente difficile così come la cassa da 26 nel rock cioè perché bisogna gestirla con il piede non è una cosa di gestire questi vari suoni la cassa da 18 può essere un'arma assolutamente micidiale se usata male perché appunto c'ha molto sustain boom 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 e quindi questa cosa va a incasinare il basso si va a sommare a delle frequenze bisogna suonarla con il volume giusto soprattutto gestendola molto spesso 9 su 10 appoggiando il battente sulla pelle e questo è una cosa che ho visto fare non è che lo dico io a proposito delle cose che dichiaro nel libro e che dico hanno un riscontro e l'ho visto fare da posso fare una lista interminabile anzi nel libro c'è anche una lista parziale diciamo di batterisi che ho osservato molti di loro appunto li ho osservati da dietro come spiego altri da davanti quindi ma comunque riuscivo a percepire il tipo di suono e quindi Elvin Jones è un altro che suonava col battente dentro e ne ho le prove perché io ho una batteria di Elvin Jones e tu hai visto abbiamo fatto anche tanto tempo fa un piccolo video ho questa batteria sua ancora con le pelli originali con le Gresh Permaton quelle originali col cerotto Dr. Schultz sulla parte del battente perché lui usava il battente di legno e sotto al cerotto che ormai è consumato ma io non mi azzardo a cambiare quella pelle anzi ci ho provato ma mettendo la pelle non suona come quella lì quindi ho rimesso la vecchia originale c'è ancora il cerotto Dr. Schultz che lui metteva proprio per cercare di proteggere ma comunque sotto al cerotto c'è la pelle c'è un avvallamento perché suonava talmente forte talmente dentro che proprio le pelli gli duravano poco fortunatamente la mia è ancora lì e quindi questa è un'altra dimostrazione del fatto che 9 su 10 come dicevo nel jazz ma anche nel grande rock il battente suona appoggiato alla pelle per avere quel tipo di suono un salto di palo in frasca però mi riaggancio al discorso sulla batteria bebop non il fraseggio che usavi prima c'è una parte ritengo molto utile in cui hai trascritto per rullante ma poi dando delle indicazioni per potersi muovere alcuni temi del bebop e questa cosa non viene detta solo per cultura generale ma perché l'articolare fraseggiare e ripetere sullo strumento prima sul tamburo e poi sul resto orchestrando tutta la batteria questi temi nel bebop o di un certo periodo storico ti fornisce quella tecnica e quell'espressione che non può esserti data dai soli esercizi dai soli rudimenti perché in qualche modo ci si scorda che nella fase solistica che è quella in cui il batterista poi è chiamato meno spesso in termini percentuali nel suo lavoro non dobbiamo non si tratta soltanto di stupire di fare rulli a velocità supersonica quanto di fraseggiare di fare delle frasi allora cosa di più interessante e più anche impegnativo di un tema bebop che ti dà le pronunce giuste che ti dà le pause al momento giusto e quindi questa scelta volevo chiederti appunto ragione di questa scelta di includere dei temi bebop sì perché diciamo molto spesso si parla di vocabolario anche i ragazzi dicono ma io quando faccio gli scambi o faccio dei soli o imposto ecco o l'uno o l'altro sono a corto di frasi e le frasi vengono dal vocabolario dalla conoscenza del vocabolario che in larga parte si è formato manca a farlo apposta nel periodo durante il periodo della nascita del bebop i batteristi che hanno contribuito alla creazione del vocabolario più di altri sono stati ovviamente Kenny Clark su tutti che è stato il maestro cioè il primo che ha indagato sul vocabolario e lo ha cominciato a formare prima di lui batteristi come Baby Doz appunto i batteristi della swing era o anche quelli del periodo degli anni 20-30 suonavano un vocabolario molto limitato che era fatto di colpi singoli con degli accenti ma poco altro ma da dove viene tutto quel vocabolario viene dalla musica che scrivevano quei boppers in quegli anni là e chi suonava con quei boppers in quegli anni lì Kenny Clark Roy Haynes poi ma soprattutto Kenny Clark il quale è stato veramente uno dei responsabili principali della costruzione del vocabolario dove appunto poi hanno attinto anche Max Roach e tutta una serie di altri questo vocabolario veniva molto spesso dai temi che scrivevano quei musicisti e quando parlo di quei musicisti su tutti c'è Charlie Parker Dizzy Gillespie Bud Powell Fats Navarro sono stati 4-5 musicisti che hanno scritto veramente quasi tutto quello da cui poi batteristi intelligenti come Kenny Clark sono andati a rubare quindi quando noi abbiamo un tema ne ho messi 2-3-4 come esempio Scrapper from the Apple piuttosto che Confirmation non ricordo nemmeno quali e lì già c'è tutto faccio un esempio breve tipo questo ok se questo lo suoniamo sul tamburo abbiamo già una parte di vocabolario che ci è sufficiente per cominciare a prendere confidenza con questo vocabolario questo come tanti altri di quei temi hanno dentro un sacco di di sincopi hanno dentro un sacco di cose che sono fondamentali io adesso poi ho suonato così solo sul tamburo ma se poi questa cosa qui la orchestriamo e la orchestriamo con un criterio ovviamente lavorando sui tamburi e mettendo alcune figurazioni distribuite tra il tom il timpano e la cassa riempendo delle pause con la cassa come spiego in un esercizio che si chiama the hand bravo da lì secondo me possiamo risalire in parte a quello che significa il vocabolario poi ognuno di questi grandi batteristi di cui parliamo sempre Max Roach piuttosto che Higgins piuttosto che Art Taylor e Philly Joe ognuno di loro fa capo sempre a quella scuola lì poi ognuno di loro però usa determinati leaks piuttosto che altri che sono fatti e formati da determinati rudiments Philly Joe Jones usa moltissimi double paradiddle lui era uno specialista del tamburo ma soprattutto ha usato e studiato Will Cox meglio di chiunque altro era molto fissato con le mani ma soprattutto quello che fa è molto pieno di double paradiddle paradiddle e double paradiddle Max Roach usa più rulli rulla 5 così come Art Blakey molti più rulli piuttosto che paradiddle mi viene di dire e altri invece suonano l'uno l'altro eccetera eccetera ma tutti fanno poi riferimento alla scuola di Kenny molti fanno riferimento alla scuola di Kenny Clark quindi quando si dice che quel ceppo là viene da Kenny Clark è la verità è lui stato il grande maestro alcuni hanno proprio studiato con lui tipo Art Taylor quindi chi meglio di lui poteva rappresentare quello stile lo stile di Art Taylor e così come lo stile di Philly Joe e di Max Roach quindi è importante attraverso quegli esercizi con me che poi non sono semplicemente trascrizioni ritmiche di quello che sono i temi del Bibbop alcuni dei temi del Bibbop dove andando a vedere come sono organizzate le frasi scopriamo che dentro possiamo avere a disposizione un buon vocabolario se poi supportato anche da un po' da un'idea anche creativa dove noi quella frase la pigliamo la giriamo e la indaghiamo sui tamburi possiamo avere un buon approccio al vocabolario fermo restando che il vocabolario è una cosa che si studia si studia attraverso i dischi si studia quella frase si prende quell'altra frase si fanno varie analisi di tutti i periodi e di tutti i batteristi che hanno un vocabolario interessante cioè quasi tutti perché il vocabolario di Tony Williams è un vocabolario molto specifico così come quello di Roy Haynes è un vocabolario specifico così come Jack Dejonette che però si rifà al vocabolario di Roy Haynes in parte e quello anche di Tony Williams poi si copiavano l'uno con l'altro e quindi comunque si ispiravano molti erano amici quindi si frequentavano studiavano insieme cioè bisogna andare a vedere alla fine rimane sempre tutto intorno a quell'idea lì certo e la cosa che mi pare contribuisce un po' a a render chiara è che per potersi esprimere compiutamente col giusto vocabolario sono d'aiuto possono essere d'aiuto i rudimenti che non sono però il vocabolario che non sono oggetto cioè uno non deve riempire gli spazi gli scambi che fa con gli altri strumentisti di rudimenti ma di frasi per le quali può usare un rudimento un altro stich un'altra cosa per esprimere delle idee su questo mi pare che sei molto chiaro pur offrendo una selezione di rudimenti almeno che a tuo giudizio vengono usati quelli che usiamo di più quelli che diciamo i batteristi di jazz usano di più spesso noi chissà immaginiamo che molti di questi batteristi abbiano passato chissà quanto tempo a studiare il loro strumento in realtà hanno fatto la storia della batteria studiando e suonando soprattutto ma studiando molto meno e anche qui ci sono dei riscontri personali che ho avuto con tanti batteristi uno degli ultimi appunto Albert Uditte che io considero uno dei giganti della batteria jazz che quando appunto abbiamo passato del tempo insieme parlando degli studi anche del lavoro che lui aveva fatto quando era più giovane eccetera eccetera alla fine parlando ti accorgi che c'è veramente il minimo indispensabile ma quel minimo indispensabile che lo voglio dire hanno fatto fruttare ai massimi livelli in virtù poi di che cosa di avere una musicalità pazzesca con poco a disposizione perché non c'erano tutti quello che gli americani chiamano i chops questi batteristi qua chi più chi meno ma non avevano dei chops diciamo esagerati rispetto a quello che vediamo ora però facevano quelle 4-5 cose benissimo ma soprattutto la cosa più importante che facevano era portare il piatto bene e quindi avere quel distintivo quel biglietto da visita importantissimo e stare dietro ai musicisti ascoltando molto bene e quindi entrando nelle grazie di alcuni di questi proprio perché supportavano la musica di questi musicisti meglio di altri quindi non era un caso che in quei dischi in quegli anni poi lavorassero sempre di quei 3-4-5 batteristi che erano ovviamente molto in voga parlo di Philly Joe e parlo di Billy Higgins e di Art Taylor Blue Note quel periodo lì erano loro però c'erano tutta una serie di altri che hanno avuto meno spot perché frequentavano probabilmente dei leader meno importanti di alcuni altri e quindi però batteristi come Lex Humphries come Roger Humphries come ci stanno musicisti che hanno passato Alvis Stoller Clifford Jarvis gente che stava in studio si lavoravano tantissimo batteristi strepitosi fantastici con swing che non finiva mai con tutto quello che c'era del suono però poi erano un po' messi in ombra dai grandi nomi che comunque alla fine garantivano quello che come adesso voglio dire succede sentiamo sempre la lamentela che lavorano sempre gli stessi ci sarà poi un motivo ci sarà una ragione perché lavorano poi soprattutto negli stessi fino a prova contraria quando abbiamo dei riscontri utili in questo senso se poi dietro dovessimo riscontrare però questo non è buono a suonare però lavora sempre lui allora dico ma forse c'è qualche problema hai citato prima Tutti Hit che è veramente un grandissimo e bellissimo personaggio e mi veniva in mente che hai anche proposto nel libro la trascrizione di una sua interpretazione di un ritmo che è il calipso questo per dire che oltre appunto a tutte le problematiche legate all'accompagnamento e al solismo in ambito swing cioè del jazz c'è quasi un po' come i bei vecchi metodi di una volta che avevano un appendice con tutti i ritmi più diffusi alternativi sudamericani esattamente hai voluto offrire una panoramica di ritmi ma quelli anche in questo caso tra i più frequenti che è possibile può capitare di dover suonare in una ipotetica jam session a Shanghai o a New York o dove volete o a Londra per cui c'è questa questa carrellata di ritmi alternativi come lei vuol di chiamare molti dei quali indulgono appunto all'aria un po' più latina ma per ognuno dei quali c'è il riferimento discografico su dove possono essere ascoltati sicuramente questo perché perché ho riscontrato che spesso c'è molta molta confusione quando dici suoniamo questo pezzo qua che pezzo è sì c'è un po' latin con il bridge in 4 eccetera latin però voglio dire significa tante cose latin di quale parte diciamo latin stiamo parlando il Brasile Cuba quello quell'altro a volte ci si fa rientrare anche l'Africa no? il concetto di latin la musica argentina anche quella è latino latinoamerica voglio dire però ognuno di questi ha dei ritmi particolari nel jazz insomma sappiamo che spesso ci capita quel pezzo è afro ma afro come? come funziona l'afro in realtà per essere coerenti con quello che è il suono ma molto spesso anche altri ritmi tipo questo pezzo è calipso e sul calipso ne ho sentite di tutti i colori voglio dire in realtà il calipso è una cosa che ha un suo beat un suo codice così come il Bougaloo che a molti ancora è sconosciuto un ritmo che invece in quegli anni là era assolutamente in vigore e il Bougaloo è un ritmo ben preciso così come il second line in New Orleans anche lì si fa parecchia confusione fino ad arrivare alla classica bossa nova con gli accenti con le clave giuste piuttosto che quelle sbagliate quindi ho voluto soffermarmi anche su questi ritmi qua che a volte non sono poi così chiari a tutti quindi a partire da calipso ho trascritto quello probabilmente più famoso all'inizio che è quello che fa Max Roach in St. Thomas Sonny Rollins Rollins è stato proprio l'inventore del calipso diciamo applicato alla musica jazz e quello che faceva Max Roach spesso dice sì però chissà come lo fa in realtà è molto semplice ma molto efficace e andava trascritto è l'uovo di colombo ma ha un suo modo che è questo non ci sono altri modi poi to the hit ne fa un altro la semplicità anche qua io questo gliel'ho visto fare ho fatto anche un video che sta su YouTube fatto da me al Village Vanguard dove si vede lui che suona un calipso così però è talmente giusto totalmente basic ma funzionale come tante altre cose ed è quello che mi affascina di questi batteristi che non vanno a cercare le cose cercano le cose che funzionano anche le più semplici perché poi alla fine è quello il famoso ritmo che tu ti usa molto che ovviamente viene da Vernet Fournier che usa in poenziana anche questo a proposito di semplicità però è geniale è geniale perché è così che bisogna farlo e lo vediamo fare a Vernet lo sentiamo fare perché non ci sono video dove lui suona questa cosa qua però Idris Mohamed che è stato un grandissimo altro genio della batteria anche lui di New Orleans che ha suonato nel trio di Jamal fino a pochi anni prima di morire purtroppo e lui aveva ripreso questo ritmo è così così come lo suonava Vernet e c'è un motivo per cui si suona aperto con questo sticking in questo modo piuttosto che incrociare a tutto c'è un perché sempre bisogna capire suona diverso se lo faccio in quell'altro modo così come molti Bougaloo suonano diversi se suonati con questo piatto qui il ride col piatto a sinistra piuttosto che il piatto principale a destra e c'è una questione di qui entriamo proprio in cose di super nerdismi proprio però lo so suona diverso quindi il Bougaloo così come lo suonano molti di Roger Humphries Lex Humphries e Bill Higgins se lo suono qua questa cosa di essere aperto mi fa sentire suona diverso magari al pubblico come dire non fa questo tipo di effetto però io lo so quando lo suono che qui suona in un modo e lì suona in un altro è un fatto di atteggiamento e l'atteggiamento è molto importante che lo trovi più confacente al tipo di ritmo che stai suonando in qualche modo è chiaro che se non sei convinto tu che devi suonarlo con il ritmo ci sono esatto uscirà in maniera meno convincente la gente dirà questo è pazzo cioè questo è completamente uno che però c'è un bellissimo piccolo video di R.Taylor su YouTube dove c'è una lunga intervista molto bella negli anni 80 dove a un certo punto lui si alza e va alla batteria in questo studio intervistato da non mi ricordo se è anche un batterista questo probabilmente però dice a proposito di symbol beat lui dice no ma i symbol beat gli dice in inglese perché stai così accucciato quando sono tradotto in inglese e lui a un certo punto fa che il symbol beat è molto importante e suona questo ride qua così come dico è un'espressione diciamo magari che molti non conoscono però imbruttisce il piatto cioè guarda questo piatto qua che è un piatto piccolo tra l'altro un 18 però c'è questa intensità questa tensione guarda caso suona su questo qua e non suona su quello per rappresentare quel fatto di come è concentrato in questa in questo asse piuttosto che in questo e quanto lì gli viene ancora più la tensione che ci vuole così come dicevo prima per il bucaloo sono cose diciamo che un po' diciamo elaborazioni Thomas che ne dici sono fisime da batteristi o anche tra i chitarristi riscontri a volte guarda io sono sono ammirato di sentire parlare a questo livello perché diciamo questo poi vale un po' per tutti gli strumenti quando ci si approfondisce e si arriva a questo livello di profondità e di qualità perché siamo talmente intrisi ma molto colpito la frase che ha detto prima Roberto c'è un sacco di superficialità nei tutorial nelle cose che uno trova in giro siamo talmente intrisi in questo bagno di superficialità un po' di noi li chiamiamo i venditori di tappeti questa gente che arrivare a sentire da assoluto profano di batteria come me però ecco dopo 30 anni faccio musicista sentire questa ricerca questo desiderio di andare oltre quella sfumatura che non è una sfumatura di pennello ma cambia tutto è bellissimo è entusiasmante anche per un non batterista quindi sono quasi invidioso di quelli che avranno questo metodo per potersi cogli tutti questi dettagli su un mondo che conoscono bene non come me ecco veramente bellissimo grazie Roberto e grazie Alfredo grazie a te figurati Thomas è stata bellissima questa chiacchierata era un po' quella l'idea andare oltre appunto andare oltre e entrare in qualche dettaglio che spesso sembra addirittura così dettagli che sembrano appunto insormontabili ma quello in realtà poi stringendo sono una sostanza è tutta una cosa di sostanza cioè il gusto di entrare appunto in quel suono di riconoscere quello stile fatto appunto di cose tutto sommato abbastanza semplici perché questi grandi maestri erano musicisti abbastanza semplici erano tutti quanti molto mi permetto di dire basic poi alcuni di loro hanno avuto ovviamente il dono di avere un certo tipo di facilità tecnica quindi Philly Joe era ripeto quello che in mezzo a tutti quanti spiccava perché usava il tamburo in un certo modo del resto il suo diciamo mentore era Buddy Rich voglio dire ha sempre avuto questa cosa di suonare in orchestra di avere era proprio un fan di Buddy Rich a livelli non è mai arrivato ad avere la tecnica di Buddy Rich ovviamente tutti lo sappiamo ma nel mondo diciamo dei batteristi combo perché lui in larga parte ha suonato nei piccoli gruppi anche se appunto privilegiava e adorava suonare in big band però in mezzo a tutti quegli altri era quello che spiccava perché aveva sicuramente le mani tra le mani migliori lui e anche Max Roach aveva delle ottime mani ma forse Philly Joe ma comunque a parte questo ci sono stati altri batteristi molto semplici molto basic che io adoro e che ho e continuo a scoprire Jimmy Lovelace cioè ci sono ci sono veramente stati stan livi sì diciamo che ci sono state alcune personalità che hanno un po' oscurato il lavoro di tanti altri più che onesti musicisti che hanno fatto caterve di dischi ma che purtroppo poi non vengono ricordati perché hanno avuto degli stilisti e dei capi scuola un po' un po' davanti un ragazzo recentemente in occasione di una tesi che doveva fare mi ha posto proprio questa domanda perché questi batteristi sono stati oscurati in quegli anni da altri la mia risposta è stata prevalentemente perché tutti i batteristi che in quegli anni sono stati tutti dei band leader se andiamo a vedere Max Roach era un band leader Philly Joe era un band leader Art Blakey era un band leader me ne aveva tirati fuori altri due o tre insomma tutti questi hanno avuto sempre gruppi a loro nome si sono esposti proprio come band leader gli altri non erano band leader se noi andiamo Jimmy Lovelace è stato mai un band leader Lex Humphries gente che lavora negli studi che probabilmente molti di loro non sono nemmeno mai usciti dagli Stati Uniti non mi risulta che gente appunto come Lex Humphries sia mai venuto in Europa a suonare so per certo che Donald Bailey che non è stato un band leader ma è venuto in Europa con Jimmy Smith ma comunque gente che faceva una piccola turnia e poi ritornava in America lavorava negli studi gli altri hanno girato chi con Miles Davis chi con con Clifford Brown chi con quello hanno fatto parte di gruppi storici Elvin Jones col Coltrane Tony Williams prima Philly Joe Jimmy Cobb con Miles altri con con Bill Evans cioè hanno fatto parte di gruppi che erano molto come dire hanno avuto un'esposizione enorme invece altri sono rimasti sempre a casa loro per cui a parte gli addetti ai lavori tipo appunto gente che osserva e che ascolta molto e che ricerca molti di questi batteristi non hanno mai sentito nemmeno nominare eppure ce ne sono una serie Roy McCartney c'è una serie che io cito nel libro che sono batteristi strepitosi hanno tutto quello che un batterista di jazz deve avere il vocabolario il piatto swing piatto vocabolario necessario per fare e gusto suono stanno sotto al musicista ai solisti facendo un lavoro enorme dietro come Dexter Gordon parla di Bill Higgins perché era così speciale perché era uno che aveva delle orecchie che nessuno aveva cioè captava tutto quello che succedeva intorno e captare vuol dire mandare la musica dove poi decidi tu decidi il batterista esatto cioè essere un regista Bill Higgins era il regista dei registi che non vuol dire solo scendere quando cambia il solista di dinamica oppure significa tante cose cioè mettere quell'accento lì perché va lì piuttosto che metterlo dopo oppure anticiparlo o suonare quel colpo di cassa in quel punto là che magari va a rompere le scatole alla mano sinistra del pianoforte per cui nel libro io parlo anche di tutte queste dinamiche fuori da dalla classica figura della sezione ritmica che è rappresentata dal basso e dalla batteria ma il basso la batteria il pianoforte è la sezione di ritmica completa la mano sinistra del pianoforte e poi che il rapporto di questi tre solisti rispetto di questi tre musicisti rispetto ai solisti che abbiamo davanti che a loro volta producono un sacco di cose ritmiche non so parliamo per esempio di un musicista come Joe Anderson cioè un sassofonista che fa uso del ritmo in maniera egregia è assolutamente unica quindi è uno che dice racconta delle storie a livello strumentale melodico tutto quello un cranio pazzesco ma che anche ritmicamente è una cosa eccezionale quando parlai con Michael Breger dei suoi sassofonisti preferiti molti anni fa mi disse Joe Anderson è il più impressionante di tutti io non capivo molto bene lui ha il timing più incredibile di tutti quanti compresi tutti quelli che conosciamo Coltrane chiunque Joe Anderson è veramente una cosa inarrivabile mi confessò Michael Breger di questa passione per i dettagli in realtà Thomas è una cosa che accomuna alcuni direi tutti i protagonisti di questo di questo appuntamento perché Music Off da anni che cerca appunto di lavorare su questo versante e reagire ai venditori di tappeti di cui parlavamo prima Marco Volontè con Volontè Company la sua casa editrice sta cercando di fare divulgazione nel senso giusto e Roberto Gatto come autore ci ha dato appunto stamattina oggi questa dimostrazione di quanto sia importante andare a fondo alle cose e non confondere con nerdismo una sana e auspicabile curiosità e ricerca che dovrebbe accomunare qualsiasi appassionato di qualsiasi strumento musicale io veramente sono contentissimo di questo incontro a parte che finalmente potrò perché ho visto che poi nel libro non è che c'è soltanto cose da batteristi nel senso c'è tutto un viaggio attraverso la storia del jazz e non solo che penso queste robe le sei solo te veramente sono incredibili quindi sarà veramente anche mio gusto potermelo scrutare per bene e poi sentirti anche suonare qui qualche accenno di quello che è un percorso così non da nerd mi è piaciuto questa cosa detta Alfredo che non è una cosa da nerd questo è di chi c'ha veramente quella curiosità che ti porta al di là del basic ecco come tante persone si possono accontentare di questo però se uno vuole fare professionista in qualunque ambito è inevitabile c'è questa necessità di andare al di là dell'introduzione della prima pagina ecco non so come secondo me è arrivata tantissimo in questa chiacchierata di oggi Roberto ecco anche conoscendoti come super artista immagino che nel libro ci sarà molto più pane per i nostri denti di quello che già soltanto oggi ci hai detto ecco trovo di sì ma soprattutto ecco come ho sempre detto riguardo al libro la parte di testo è la parte alla quale io effettivamente sono più affezionato e che ritengo essere fondamentale più della parte didattica che comunque raccoglie tutta una serie di cose secondo me utili perché appunto piccole trascrizioni esercizi sui quali ho lavorato negli anni ovviamente ho fatto una cernita di alcune cose anche parlando proprio dell'aspetto per esempio dell'uso dei rudiments ho messo determinate cose che però in generale ho così sottolineato alcune delle cose che io ho usato personalmente ma più che appunto questa parte didattica trovo che la parte appunto del racconto iniziale di tutti questi aspetti che ho discusso appunto e raccolti nei vari capitoli sia proprio la cosa che fa un po' la differenza tra questo libro e un qualsiasi altro libro e forse anzi certe volte mi hanno anche accusato dice sì però hai detto pure troppo nel senso ho tirato fuori troppa ho messo troppa carne al fuoco come si dice però in realtà l'ho fatto e l'ho fatto con grande piacere sai perché molti anche chi insegna a volte ho avuto anche questa questa prova molti anche americani quando insegnano a dei ragazzi si espongono fino a un certo punto non ti dicono non ti dicono non ti dicono ma ho avuto proprio la prova adesso non faccio nomi di alcuni batteristi importanti della scena americana di ragazzi che hanno preso le lezioni da loro ma quello come eh ma quello no ok parliamo di un'altra cosa come dire fanno no come se avessero il grande segreto fanno melina capito si appunto capito la chiave della cassaforte x y in realtà ognuno di di noi dovrebbe a una certa età aver realizzato che sei arrivato dove è arrivato ci è arrivato perché è lui e la sua personalità lo hanno portato a meno a meno che uno la personalità non ce l'abbia proprio ma comunque durante un lungo percorso se un musicista è arrivato dove è arrivato è arrivato perché è lui che ha manipolato il materiale in maniera di riuscire a farlo suo e comunque e quindi non ci sono segreti cioè se io insisto a spiegare il piatto in un certo modo perché magari dall'altra parte qualcuno ne potesse alzasse il vitino e dicesse non è così eh certo sì no comunque sì però il segreto dell'Apple Downer la suddivisione cioè sono tutte cose poi nella realtà io lo faccio così e poi bisogna vedere gli altri come lo riescono a rappresentare a riprodurre cioè qualsiasi cosa se io dico questo suono deve essere così poi nella realtà vediamo se a lui gli viene così per cui la questione ho dei segreti i segreti dipendono sempre cioè io sono io e come diceva grande Alberto Sordi non si può dire certo però ecco il senso è veramente quello per cui quali segreti di fronte a che cosa diciamo che le fonti sono pubbliche sono a disposizione assolutamente sì ma poi vedere appunto persone come Tutti It che rispondono con determinate cose cioè ti fanno capire quanto di pochi segreti ci siano se non quello del grande segreto di come suonare il piatto che alla fine è quella cosa là e quella cosa là non è più di tanto come dire spiegabile ci si può arrivare molto vicino a capire determinate cose sicuramente ad aggiustare il tiro su come eseguire bene la scansione del piatto però quella è una cosa loro è una cosa che ognuno di loro ce l'ha in un certo modo ed è un suono irriproducibile non si può rifare si può arrivare molto vicini e soprattutto con delle indicazioni si può evitare di sbagliare così tanto in maniera da allontanarsi sempre di più da quella cosa là perché poi c'è anche quello di problema ma quando Tutti mi faceva vedere dice prova quando ci siamo visti a casa mia dice che devo fare qua io oggi perché intanto pigliamo un caffè faccio il caffè ci mettiamo lì dice ok questa è la batteria fantastico faccio cosa cosa ti posso far vedere allora si si è fatto guarda non è che mi devi far vedere già che sei qui parliamo mi raccontava di quando vivevano lui elvin jones e philly joe in una stessa casa a manhattan mi ha detto non lontano da dove stai tu io stavo a harlem dice non far from here so we stayed for a long time together with philly joe and kenny clark e dice I show you something e mi ha fatto vedere questo e dentro di me dice e lui fa sai che mi ha detto questo Steve Gadd ecco tutto è relativo è buffissima come cosa Steve Gadd e lui lo usa molto questa cosa qua è una classica cosa di Steve Gadd non potrei mai arrivare a pensare che uno come tu dite che ha 83 anni poi va da che ne so incontra Steve Gadd e Steve Gadd gli dice questo l'X cioè sono tutte cose molto buffe ma molto semplici per lui era una cosa difficilissima per come è il suo mondo batteristico oppure un'altra cosa che ti faccio vedere un'altra cosa che era che era questo e poi mi diceva falla io poi mi sedevo la facevo lui dice ma che mi hai chiamato a fare qua ma perché mi hai fatto sono venuto a perdere tempo perché io la facevo e per lui anche questa era una cosa difficile fatta e magari fino a poco tempo prima non l'aveva mai suonata una roba del genere per lui rappresentava un punto d'arrivo importante fare questo esercizio qua ecco da lì capisci la semplicità e il fatto che questi hanno fatto tutto quello che hanno fatto che è tantissimo forse tutto quello che si poteva fare con poco e con un linguaggio semplice bene dai io direi che ci siamo fatti una bella chiacchierata un'ora e quaranta siamo stati doveva durare quaranta minuti diciamo che potremmo averne per altrettanto eh no ma almeno un'altra due o tre ore secondo me ci starebbero dentro ma qualcuno ci seguirà dici con tutto questo tempo sì 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 beh figurati guarda senti parlare a gente come te e io ci starei tutta la pomeriggio tutta la sera eppure domani eppure confortante diciamo speriamo speriamo non ci abbandonino troppo presto bene io vi ringrazio tantissimo di questa chiacchierata è stata per me per primo proprio premiante davvero arricchente cioè esco davvero più ricco di quando abbiamo iniziato questa chiacchierata questa giornata e ringrazio pure tutti voi che vi siete visti questo video insieme qui sotto nella descrizione trovate tutti i dettagli di questa pubblicazione di Volontè che è Just Drum Book di Roberto Gatto suono comping and phrasing redatto in collaborazione con il nostro caro amico Alfredo Romeo e ovviamente ricordatevi di lasciare un commento qua sotto non soltanto per raccontarci il vostro feedback su questa giornata ma anche domande qualsiasi cosa ci possa essere come al solito qui su YouTube c'è spazio per tutta la comunicazione post premiere di questo video questa diretta indifferita che vi vedrete grazie tante Alfredo di questo lavoro da sparring partner grazie a te Thomas adesso che ci abbiamo lo studio sarà magari la prima la prima di una lunga serie di chiacchierate anche con i batteristi che erano sempre troppo rumorosi per noi speriamo speriamo e grazie tantissimo Roberto è stato un onore averti qua ospite da noi e in bocca al lupo per tutte le attività future e per la presentazione di questo bellissimo libro che sono sicuro porterà tanto frutto anche nei giovani e non solo giovani batteristi che lo andranno a conoscere grazie a voi volevo solo aggiungere questa piccolissima cosa ci sarà adesso nel mese di di maggio ma anche a seguire un giro abbastanza massiccio potete trovare tutte le date sul tuo canale facebook sulla pagina facebook comunque appunto andrò in giro in solitudine a presentare mi porterei volentieri Alfredo Romeo però diciamo che è un po' difficile è molto impegnato consumo tanto consuma tanto costa troppi soldi quindi andrò in giro dicevo in solitudine a presentare appunto il libro a parlare così come né più né meno di quello che abbiamo fatto oggi in presenza magari di allievi studenti nei conservatori o alcuni negozi di strumenti musicali appunto sparsi su tutto il territorio quindi l'importante è che ci sia una batteria Roberto l'importante è che ci sia quello è sicuro quindi niente detto questo grazie ancora per questa bellissima chiacchierata spero che rimarrete incollati agli schermi a sentire tutto quello che abbiamo detto e beh ormai se sono arrivati fino a qui vuol dire che l'hanno già fatto quindi stai sereno ah beh allora fantastico bene grazie a tutti guarda io ti farei suonare proprio un minuto così chiudiamo il video con la musica come abbiamo iniziato e noi ci vediamo al prossimo video a Grazie a tutti. Grazie a tutti.